Come immagini la Wilka del domani? Quali sfide dovrà affrontare il sindacato per mantenere la fiducia dei lavoratori e contribuire allo sviluppo del nostro settore? La Wilka di domani la immagino come la Wilka di questo congresso. Una Wilka che era questo congresso sta prendendo slancio per proiettarsi verso quelle sfide future che citavi tu. Una Wilka sempre più coesa, sempre più riconoscibile, efficace nella difesa delle lavoratrici e dei lavoratori, affidabile, autorevole. Una Wilka che può interloquire con tutti, con proposte, sempre con grande spirito costruttivo e lungimirante. Per fare questo serve la coesione che si è dimostrata in questo congresso e la massima sinergia e organicità all'interno dell'organizzazione dove ognuno si deve sentire parte fondamentale della costruzione di questo percorso insieme. Perché appunto come dicevamo le sfide saranno tante e complicatissime, soprattutto in uno scenario come quello che la nostra epoca ci pone di fronte, in continuo mutamento e con cambiamenti spesso imprevedibili. Quindi la capacità di essere sempre al centro dei processi con professionalità, impegno, attenzione a sempre le esigenze delle persone. Perché alla fine il titolo Wilka con le persone è il motto che ci deve guidare e ci ha guidato in questo congresso ma ci deve guidare nei prossimi anni nella logica per cui noi vogliamo cambiare e intervenire in questo paese rendendolo più inclusivo, pluralista, partendo dal mondo del lavoro, dell'ampliamento dei diritti, dell'eliminazione delle diseguaglianze. E per farlo ci serve il contributo di tutti. Ci serve quindi farlo stando dalla parte delle persone. Quel con significa stare dalla parte delle persone ma farlo anche insieme alle persone nella consapevolezza che il contributo di idee e soprattutto la differenza di idee è una ricchezza per tutti.